a grande richiesta le mitiche patatine di Ciavarro come le fai tu le patatine di Ciavarro? non le fa nessuno veramente? lo dici sempre eh lo so facciamo l'applauso a papà? le patate di Paolo facciamo l'applauso amore? papà si sta mangiando Paolo mi piacciono tantissimo loro Paolo Ciavarro è un papà delizioso oltre che è un bell'uomo però la vera anima secondo me di questa famiglia fatemelo dire che è Clizia in Corvaia fa tutto lei ed è anche una splendida danzatrice qui da Terrassino mi fa morire sta ragazza perché è fashion poi sa dire la sua con grazia mi piace proprio tanto vi lascio al prossimo video ciao